Salve a tutti ragazzi qui TtD e benvenuti in questo nuovo video di Dokkan Battle Ragazzi oggi siamo qua per awakenare questo bellissimo Gohan Family Kamehameha Eccolo qua, bellissimo, veramente bello Ma ovviamente dobbiamo andare prima a farmare un'ultima medaglia E sperare nell'RNG Allora andiamo subito, l'evento è attualmente attivo Quindi ragazzi andateci se volete Perché tanto è molto facile da farmare e ci vogliono 7 medaglie per i 3 personaggi Che sono il Gohan che vi ho appena mostrato Goten STR e Goku STR Eccolo qua, la missione The Feat del Legendary Super Saiyan Andiamo a vedere intanto le notizie e le info Eccolo qua, una missione storia Come vedete nell'ultima Lo stage 6, Blast Family Kamehameha Da una stone la prima volta in tutte e due In Normal e Z Hard E in più dalle medaglie Quelle non sono assicurate ragazzi Per quello dicevo RNG Infatti non sono assicurate di trovare quelle di Gohan Potrei trovare quella di Goten che non mi serve un cazzo Eccetera oppure non trovarle Quindi ragazzi comunque ci sono due personaggi E in più, eccole qua Goku STR Gohan AGL E poi Goten STR Va bene, andiamo allora Ultima missione Blast Family Kamehameha E' molto facile Il team Ci possiamo portare dietro anche Degli scrausoni da allenare Fondamentalmente Mi porto però dietro solamente Vegito Vegito, Vegito Per farla veloce In più cambiamo metà del team Perché tanto Come ho detto Posso allenare la gente Quindi C'è gli androidi Via, questo via Questo via Chi ci portiamo Che dobbiamo allenare Eh ce ne sono veramente poche Però ci portiamo Questo Questo e questo Ok che così Li alleniamo Va bene Va bene in questo modo Li alleniamo Tanto è molto facile come missione I due Vegito fanno il loro danno E il massimo che ho visto Comunque è tipo 60.000 di danno Da parte di Di Broly Quindi non è un problema Prendiamo il chi Allora a sto punto Visto che comunque abbiamo tolto Molte persone Da questo team Ma Direi si un 3 E poi un 2 Vediamo ancora 2 Vediamo di beccare qualcosa Non offre molti reward Come missione Però È molto È molto semplice Da farmare Quindi Ripeto Se volete le medagliette Sono veramente facili Ok Finalmente E si tratta di un fight A tre fasi Il primo contro questo Broly fisico Schifosissimo Il secondo Broly STR E il terzo Invece È un Broly Ancora più incazzuto Fisico Quello Il God Leader Praticamente Ok Dovrebbe morire In questo colpo Per fortuna che mi son portato Dietro Quella Quella C18 Almeno cambia tutto il Kif Fisico Buonissima Per ora Dovrebbe essere Già morto Sì Ok Perfetto Prossima fase Broly STR Anche questa Molto semplice Come fase Ragazzi Non vi preoccupate È molto È molto facile Sto fight intero Fondamentalmente Non ci vuole Molta strategia Si tratta Comunque Di una Una Z Una Z Hard Story mode Cioè quindi Non è poi tutta Sto difficoltà Critic Perfetto Ok Morto Broly STR E andiamo avanti Con la prossima fase Broly Fisico Mettiamo qua Ecco qua Qua ci può essere Il problema Della Della ultima 132.000 Di vita Dopo lo dovrei One shotare Appena Appena la tira Non è un problema Se non la tira Ancora più facile Ok perfetto Non l'ha tirata Bam Beccati la ulti Per favore Vegito Tiragli tante di quelle botte Da fargli male Vabbè che se non muore Cazzo stranissimo Infatti vabbè C'era poi Oceanus Il prossimo turno Non poteva neancultare Ecco qua Awakening Medal Più training item Speriamo Speriamo in bene Che sia l'Awakening Medal Che voglio Andiamo a vedere Kamehameha Boom Morto Ok Wehehe Gohan Arriva anche Goten Kamehameha Sì Questa roba è La cosa più figa Not strong enough I need more power E arriva Goku I beg of you Please help us E beh Vieni Goku Ma che cagata Kakarot Minchia Devo dire che sotto queste cose Ci mettono anche molto lavoro Sotto altre invece Se ne fregano il cazzo E scrivono due stronzate Eccola qua Ah Cambia anche la canzone E nascerà Bio Broly La più grande cazzata Di tutto Dragon Ball Va bene Possiamo schippare ora Volevo arrivare Alla scena della Kamehameha Ok Vediamo se abbiamo beccato Gohan La medaglia di Gohan Vediamo un po' Ma non credo Scopriamolo Dai Vediamo Vediamo se la sfiga è con noi La sfiga è con noi Va bene ragazzi Ne farmo qualche altra Sperando di Di beccare L'ultima medaglietta di Gohan E ci rivediamo Con l'awakening ragazzi Eccoci qua ragazzi Finalmente Gohan Awakening Ne ho fatta un'altra E l'ho beccata Detto questo ragazzi Partiamo Awakening Portiamolo a Tour Tour Gohan Sì Siamo pronti Vediamolo un po' Ciao Gohan Oh Ed eccolo qua Bella Ah figa Con anche Goku e Goten Ci sta All types attack Più 40 Family Kamameha Caus supreme damage To enemy Va bene ragazzi Questo era il Dokkan Awakening Di Gohan Gohan Family Kamameha Detto questo ragazzi Come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti